ne parliamo poco l'abruzzo ma è bello ma è bello che è bello tradizioni molto antiche molto radicate un linguaggio poi un'orografia particolare allora fammi dire questa notizia che riguarda l'abruzzo siamo a vasto provincia di chieti e qui ha riaperto lo spettacolare giardino napoletano siamo appunto a palazzo d'Avalos si dirà Avalos perché Avalos mi suona male questo è un parco bellissimo ha un impianto settecentesco è affacciato sul mare pensa con con vialetti colonne pergolati che portano fino alla terrazza panoramica meravigliosa e parte della balconata l'inverno scorso era crollata per il maltempo e dopo mesi di lavori adesso il giardino è di nuovo completamente visitabile oltre al giardino c'è anche il palazzo vero e proprio da visitare che è un po il polo culturale di vasto al suo interno ci sono quattro musei quello archeologico la pinacoteca il museo d'arte contemporanea e poi un museo particolarissimo il museo del costume antico con una collezione di abiti abruzzesi dagli inizi dell'ottocento ai primi del novecento abiti praticamente tradizionali a vasto d'estate poi per le vacanze estive visto che c'è il mare ricordatevi a fine agosto ogni anno c'è anche il toson d'oro che è una rievocazione storica della consegna della collana del toson d'oro che sembra una cosa da harry potter poi in realtà dovrebbe ricordare il vello d'oro è il vello d'oro al principe romano fabrizio colonna quindi in quel periodo la città si riempie di costumi e di cose potete immaginarvelo ed è una manifestazione bellissima poi sembrerà di essere il toson d'oro harry potter vello d'oro argonauti cioè bella come cosa suggestione una dopo l'altra perfetto